Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Oggi l'ennesima prova, ma non c'era assolutamente bisogno di comprenderlo, l'ennesima prova che Arcelor Mittal esprime un regime dittatoriale. Si è attuato infatti il licenziamento di quell'operaio, di quel dipendente che aveva condiviso il post che pubblicizzava la fiction di Canale 5 Svegliati amore mio con Sabrina Ferilli. Insomma Rizzo, penso che la libertà di espressione, la libertà di parola sia stata completamente soffocata e il messaggio di Arcelor Mittal è molto semplice, punirne uno per educarne cento, così gli altri avranno terrore, forse persino di pensare, prima ancora che di esprimersi. Sì, è effettivamente così. Purtroppo oggi abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione della ferocia, dell'arroganza, del menefreghismo, della vigliaccheria, perché questo è il termine giusto. I vigliacchi sono coloro che colpiscono quelli che non si possono difendere e Arcelor Mittal si comporta da vigliacchi nei confronti dei lavoratori. La parte debole diciamo. La parte debole di tutta questa storia che sono i lavoratori. Oggi c'è stato questo prevedimento espulsivo ai danni di Riccardo Cristello, tra l'altro che ha un curriculum lavorativo, un operaio modello, ci aggiungo io, mai iscritto al sindacato, quindi non iscritto al sindacato. Uomo libero, diciamo che ha espresso una sua opinione. Un ragazzo che comunque ha dato il suo contributo all'interno di quella fabbrica, ha sempre lavorato con onestà e dedizione, che si è visto recapitare questo decreto, questo documento, questo provvedimento d'espulsione, a seguito di una condivisione di un post non scritto da lui, in cui tra l'altro, l'ho preciso, non c'è nessun inferimento ad Arcelor Mittal, nessun inferimento a... La fabbrica, i gè. A dirigenti della fabbrica, né da parte di suoi né da parte di altri. Quindi lo screenshot su un profilo privato in cui si invita, tramite un messaggio, se ho capito bene, prodotto dalla persona di Taranto e condiviso da migliaia di altre persone, si invita a vedere questa fiction perché rappresenta uno spaccato di verità che è a Taranto, come dire. Fin qui penso che sia tutto pacifico, sia realtà evidente, a meno che vogliamo negare l'evidenza e dire che Arcelor Mittal e l'ex Silva producono profumi e benessere per la salute. Tra l'altro, poi alla fine, io adesso lo sto ricordando, in quella fiction paradossalmente ci stai anche tu, Certo, certo. del giornalista. Quindi anche questa dimostrazione che qualora si parlasse dello stabilimento di Taranto comunque si fa riferimento a fatti che sono vecchi di dieci anni. Quindi non c'è nessun tipo di analogia con la gestione, non viene nominata a Asolo, non ci sono commenti da lavoratore, non c'è nulla. Non è nominata la città di Taranto? Non è nominata la città di Taranto. Il profilo è privato, tra l'altro, quindi non è visibile, ma è visibile solamente alle persone, a 400 persone che lui ha come amicizia all'interno del profilo e questa sì è una violazione della privacy, perché loro prendono tramite probabilmente qualche servo, non voglio essere... Qualche infame delaturre, così va definito. Sì, qualcuno che pensa poi, come dire, che con questi meccanismi può salvarsi, tanto alla fine, la fine che faremo tutti se non reagiamo a quella, perché poi la netta sensazione che ti dà questo tipo di gestione che fa cavo alla morselli è quella di prenderti, di usarti e di buttarti via quando non ti serve più. Perché questa è la realtà che abbiamo decine e decine di episodi. Oggi però, come dire, si continua con la distruzione della vita delle persone comuni, delle persone per bene, di quelli che hanno famiglie, lanciando una famiglia nella disperazione più totale, noi è chiaro, ci siamo già pronunciati, non solo ci ribelliamo a questo modo di fare, abbiamo programmato lo sciopero per il 14 di aprile, davanti a che c'è la fabbrica, anche qua voglio essere chiaro senza fare giochi di parole, quello per noi è un punto di rimente, perché lo sciopero l'abbiamo proclamato su una serie di argomenti, abbiamo fatto l'elenco di tutte le cose che non vanno bene, tantissime, perché come ho detto a Giorgetti di cose positive non ce ne stanno, non ce ne sono mai state con Arcelor Mittal, quindi il 14, come dire, al netto adesso della tantissima solidarietà sui social o a parole che si dà, noi il 14 staremo lì e, come dire, bisogna schierarsi, cioè chi starà con noi sarà contro Arcelor Mittal, chi non ci sarà sarà a favore, questo deve essere chiaro, e deve essere chiaro a tutti i livelli, anche con questi giochetti della politica, si equilibrismi, sì, perché poi anche qua, a me fa piacere leggere i comunicati di importanti esponenti politici, di partiti, però a un certo punto io dico, voi siete della politica, ci rappresentate, qui stanno massacrando un territorio in tutto e per tutto, e non è solo la questione del licenziamento, parliamo di appalto e ci abbiamo da dire centinaia di cose, parliamo di dipendenti dell'appalto, e ci sono lavoratori che non prendono stipendenti del miso, parliamo dei fornitori, lo stesso non si pagano le fatture, parliamo del governo, come dire, ridicolizzato da due accordi sottoscritti con una multinazionale che non ha rispettato nel primo e nel secondo, parliamo, come dire, solamente di fatti negativi, parliamo di un'azienda che sta facendo terrorismo psicologico sui lavoratori di quella fabbrica che stanno subendo da dieci anni errori che non hanno prodotto loro, ma che hanno prodotto gli altri, quindi anche qua il 14 per noi o chi vuole dare solidarietà lo faccia veramente, non ha parole perché basta con questi stupitaggi, ci siamo stancati, qui ognuno, come dire, pare più interessato a curare il piccolo orticello dei propri interessi che prendono la posizione definitiva e dire come abbiamo fatto noi, questi da qua se ne devono andare, ecco, questa è l'unica soluzione. Tornando alla vicenda di Cristelio, sono convinto, arci convinto che in sede giudiziaria vincerà tranquillamente il ricorso, senza problemi. Intanto però Arcelor Mittal dice io intanto ti sbatto fuori, poi vediamo quello che succede e intanto io terrorizzo i colleghi del giovane, della persona licenziata, proprio li educo a non fiatare. Ma non può essere come dire una consolazione il fatto che siamo coscienti che non ci sono le basi per effettuare un licenziamento, al netto del fatto che poi comunque in tribunale ci devi andare. Devi sostenere spese, devi seguire tutto l'iter. Cattano tutta una serie di meccanismi complicati, anche noi però ci siamo offerti come assistenza legale. Gratuita al lavoratore, perché è chiaro anche se non è iscritto, è un lavoratore, come piace a me dire, noi per qualsiasi lavoratore è iscritto o non è iscritto al sindacato comunque. Come ricordo con piacere la disponibilità nei miei confronti all'epoca del mio licenziamento. Perfetto. E così, siamo ritornati nella fiction. Quindi al netto di tutto questo è il messaggio che passa che è bruttissimo, che non è un messaggio a Riccardo Cristello, lavoratore dell'ILVA, è un messaggio a Riccardo Cristello, lavoratore di ArcelorMittal, nonché cittadino di questa fabbrica, nonché padre di due bambini, nonché marito di una moglie che tutti i giorni è in apprensione per quello che è il futuro dei propri figli e per quello che rispondono i propri figli. C'è un messaggio a tutta la comunità. Questo è gravissimo, non si può far passare una cosa del genere. Il 14 vogliamo veramente risposte dai lavoratori e dal resto della città e anche dalla classe politica, perché qui è una scelta di campo. Senti, io dico solamente una cosa, noi siamo stati sempre nelle regole. Oggi il risultato è questo. Abbiamo di fronte un soggetto che non rispetta nulla a nessuno, chi ci dovrebbe tutelare il governo non si permette il lusso neanche di fare una dichiarazione a favore dei dipendenti e questo a me spaventa e a un certo punto dico schieriamoci, buttiamo giù la maschera, vediamo chi è a favore e chi è contro. Perché a un certo punto sto gioco delle dichiarazioni di solidarietà quando ci sono che poi finiscono lì. Però poi il fatto di continuare ad avere un approccio e un colloquio e di discutere della vita e del nostro futuro con un interlocutore che è totalmente inaffidabile e l'hanno detto anche loro tra l'altro in sede ministeriale i ministri che Arcelor Mitt e la Mosselli sono totalmente inaffidabili io a un certo punto credo che questa storia debba finire. Per noi non c'è più noi abbiamo detto chiaramente se ne devono andare a Taranto non sono più graditi. Cambiando argomento ieri c'è stato un incontro con la task force regionale riguardante i lavoratori Exilva in AS si è parlato dei corsi di formazione e voi come USB avete espresso un giudizio diciamo di spiragli positivi da parte vostra non ho capito la posizione di FIM FIOM e WILM gli argomenti erano due corsi di formazione abbiamo fatto la proposta di fare i corsi in videocall di approfittare qualche mese fa abbiamo già inviato la proposta all'assessore competente della scorsa giunta regionale che è sempre lo stesso e in più c'era la questione degli LPU che la proposta che USB ha fatto da incastonare eventualmente nell'accordo di programma che si andrebbe poi a realizzare su FIM FIOM la domanda gliela fai a loro ti risponderanno loro una posizione che io forse sarò limitato mentalmente non ho compreso io rispondo per la posizione nostra su DLPU noi abbiamo detto chiaramente c'è la volontà politica della regione ieri l'abbiamo ribadito il presidente Emiliano di fronte a 300 lavoratori in assemblea ha dichiarato più di un anno e mezzo fa che lui non ha problemi ad applicare lo stesso principio che si applica a Genova diciamo a beneficio degli amici da casa chi sono gli LPU sono i lavori di pubblica utilità quindi noi abbiamo fatto un ragionamento abbiamo fatto il preventivo di spese abbiamo detto tentate per una volta di trattarci come i cittadini lavoratori di Genova a cui viene data questa possibilità e a che servono gli LPU gli LPU non sono la soluzione del problema lo voglio dire non è che uno va a fare gli LPU anche perché nella proposta nostra la proposta è su base volontaria quindi il lavoratore può accettare o non accettare però in cambio dell'accettazione il lavoratore presta alcune ore di attività sui comuni di appartenenza magari per dare una mano rispetto a tutte le esigenze che hanno i comuni o città come Taranto o il comune di residenza in generale quindi parliamo di tutti i comuni di residenza dei lavoratori in cambio di che cosa? di uno stipendio che viene erogato quasi per l'intero quindi di un ulteriore 10% da versare secondo noi a carico della Stato della Regione eventualmente anche del Comune poi sarà come dire la trattativa fra le istituzioni a decidere chi sarà le interrogature noi partiamo dal presupposto che lì a Genova è lo Stato che finanzia insieme alla Regione il costo non è esorbitante ma è il paliativo per mettere nelle condizioni questi lavoratori che sono in attesa poi di essere richiamati secondo l'accordo del 2018 e il paliativo mette nelle condizioni questi lavoratori di poter percepire lo stipendio per l'intero quindi non è esistitivo la cosa perché anche qua si sta giocando un po' con le parole come se a un certo punto è chiaro che se domani il governo ci dice guarda vi continuo a pagare per fare questa attività fino a quando andate in pensione va benissimo passiamo ad altro argomento ieri si è tenuta a Bari la task force relativa ai lavoratori ex ILVA in AS c'è stata una vostra proposta quella che appunto i lavoratori ex ILVA in AS possano svolgere i lavori di pubblica utilità questa è stata la vostra posizione però FIM, FIOM e WILM hanno espresso un parere non favorevole rispetto a questa ipotesi fermo restando che le stesse sigle sindacali a Genova l'hanno accettata l'hanno proposta l'hanno sostenuta e poi parlano anche di reinserimento dei lavoratori ex ILVA in AS c'è evidentemente nella triplice una certa contraddizione senti non lo so se c'è contraddizione non voglio esprimermi su questo magari lo dovrò chiedere a loro lo chiederai a loro io rispondo per OSB ieri ci sono due richieste abbiamo fatto noi c'è la questione dei corsi così come abbiamo fatto già qualche mese fa all'assessore di riferimento chiedendo di attivare immediatamente i corsi e di farli in videocall dando la possibilità poi ai lavoratori di percepire per quella settimana lo stipendio per intero visto che siamo con più di due anni di ritardo su questi corsi che la regione tra l'altro come dire con i finanziamenti che sono a disposizione della regione poi c'è stata la discussione sugli LPU i lavori di pubblicità che sono una delle tante proposte che noi abbiamo fatto per l'avatore di Pena S c'è un po' di confusione su questo io approfitto anche per fare un po' di chiarezza la richiesta di fare l'LPU è come dire un'aggiunta che noi stiamo chiedendo rispetto alle difficoltà dei lavoratori di Pena S cioè non vuol dire che tu vai a fare gli LPU e se accetti di fare gli LPU per il diritto poi eventuale di essere richiamato l'assunzione all'interno di quella fabbrica se mai accadrà nella fantasia solamente penso che non accadrà mai anche perché lo dico così nel momento in cui ti accingi a dover fare un incontro che dovrebbe portare ad un accordo in cui bisognerà concedere che noi non lo faremo bisognerà concedere ulteriori esuberi già tra gli 8200 vada a sé che i 1800 che stanno in AES la fabbrica come dire comunque al netto di questo gli LPU sono uno strimento che serve per come dire per tutta questa fase di transizione per dare una mano a quei lavoratori e come funzionano gli LPU esattamente come li abbiamo proposti cioè esattamente come funzionano a Genova cioè la Regione il Comune e lo Stato fanno l'accordo di programma all'interno dell'accordo di programma ci infilano gli LPU che sono lavori di pubblica utilità sfruttando che cosa? le grandi professionalità che abbiamo all'interno del bacino di dipendenti Ilva quindi i comuni possono richiamare i lavoratori che su base volontaria possono accettare facciamo una simulazione domani il Comune di Taranto chiama Franco Orizzo e dice guarda vorrei fare la pulizia del giardino io l'ha detto alle pulizie che io accetto e lì prendo una quota del 10% in più quindi il fatto di svolgere qualche ora di attività per migliorare le condizioni sociali della mia città comporta il fatto che io percepisco oltre alla Cassi Integrazione al 10% di integrazione salariale un'ulteriore quota che mi porta più o meno a prendere lo stipendio per indirlo come se stessi lavorando posso rifiutare? sì abbiamo richiesto su base volontaria che mi succede? nulla quanto dureranno gli LPU? vanno rifinanziati secondo me devono durare deve essere un'opportunità che deve essere data per tanti anni teoricamente fino a quando non dovessero rientrare se ILVA come io penso non mi richiamerà quantomeno dammi l'opportunità di prendere lo stipendio tampono economicamente quindi al contrario di alcune false informazioni che stanno girando gente che come dire ancora non ho capito se è ignorante o se è talmente piena di sei che pensa di essere intelligente di prendere per il culo i lavoratori gli LPU non sono in sostituzione dell'evento all'assunzione che rimane un diritto acquisito fin quando c'è quell'accordo poi magari scopriremo che proprio chi oggi lancia queste false informazioni sarà quello che magari ci metterà una firmetta su quell'accordo e in cui decrederà che i 1.800 non ci stanno più per quanto ci riguarda come dire questo è tabù sta cosa la voglio specificare perché il passo importante che si è fatto nell'incontro con la task force quale è stato la task force ha ufficializzato che invierà una richiesta al ministero per aprire una discussione per l'eventuale accordo di programma in cui contenere all'interno gli LPU quindi il fatto stesso che è la regione che avvia come dire sto processo sul suggerimento di USB perché noi abbiamo detto a un certo punto se aspettiamo che ci convoghi il ministero con tutti i casini che abbiamo noi rischiamo che questi lavoratori ce ne dimentichiamo e le difficoltà che vivono questi lavoratori il Vainais come tu sai a noi sono molto nude quindi vorremmo portarci avanti con il lavoro la proposta qual è stata facciamo il lavoro al contrario la regione chiama il ministero facciamoci come dire sta trattato il ministero mettiamo le cose in chiaro che cosa chiediamo di essere trattati come lavoratori di Genova a Genova i lavoratori possono scegliere se andare a fare l'ILEPU oppure no quindi su base volontaria sui comuni di appartenenza chi paga è un accordo tra Stato regione e comune poi da quanto ho capito i soldi ce li mette lo Stato il vantaggio qual è che le città il nostro territorio ne può trarre vantaggio perché domani mattina faccio un esempio noi abbiamo nel bacino del 2007 abbiamo lavoratori che giustano le strade potrebbero essere usati come dire per fare gli interventi visto come di manutenzione sì ma abbiamo di tutto all'interno abbiamo ingegneri abbiamo elettricisti abbiamo meccanici quindi persone poi tra l'altro volontarose grandi lavoratori che possiamo sfruttare sempre su base volontaria per tentare di risolvere qualche problemino magari che abbiamo nei territori quindi questo è il concetto le altre cose sono inventate probabilmente da chi si come dire si sente mancare il terreno sotto i piedi e a un certo punto non può fare altro come dire che incominciare a mistificare la realtà perché il paradosso poi sai qual è e lo dico senza polemica abbiamo fatto una battaglia in cui USB per dieci anni ha detto nazionalizziamo la fabbrica e c'era qualcuno che ci ha raccontato che lo Stato era brutto e il privato era bello adesso quel qualcuno che ci diceva che lo Stato era brutto e il privato era bello dice allo Stato mettici i soldi fai continuare a gestire il privato è assurda sta cosa ma loro diventano per la nazionalizzazione ma con gestione privata noi fra poco come dire e allora un minimo di coerenza ci vuole nella vita noi abbiamo sempre parlato di nazionalizzazione e di accordo di programma quelli sono i concetti nazionalizzazione finalizzata a fare che cosa riconvertire il territorio perché di quella fabbrica soprattutto nella condizione in cui è in tutta onestà come dire io non ci credo più credo l'unico risultato degli ultimi anni è cassa integrati disoccupati e purtroppo si continua con l'inquinamento che produce e continui incidenti e incidenti come dire come quello dell'ultimo di qualche giorno fa che di Pasquetta per l'ennesima volta fortunatamente non ha prodotto come dire strascichi pesanti sui lavoratori però questa è la condizione